3 mazzi, 3 mazzi io l'ho lì intorno 3 mazzi ok perfetto adesso unisci quei 2 mazzi insieme mescolati come che ti viene anche così mischia le altre 3-4 volte tagliale 1, 2, 3, 4, 5, 6 adesso metti in mezzo quelle in mezzo mischiale come te pare fai quello che vuoi mischiale tutte le vostre tagliate ok adesso voglio la carta e il numero la carta e il numero cosa vuol dire? è tutto mescolato che carta hai in mente? già fatto dimmi è troppo mischia è davanti ok il K di cuori tu hai visto il K di cuori giusto? no perchè non mi hai fatto ancora vedere il mazzo ok però c'è lì già l'ho visto e K di cuori facciamo un po' ok hai un numero in mente? vieni 4 tu stesso togli 4 carte mettile via tu hai detto numero 4 tu hai detto? K di cuori se questa carta è il K di cuori pensate si non puoi sfidare signori e signori fate piacere in mezzo 2 1 3 3 6